Volete andare a teatro? Scoprite il Teatro della Manufatture. Con un prezzo di 9 euro per gli studenti, potete scegliere molti spettacoli di diversi generi, classici o moderni. C'è anche la possibilità di comprare un abbonamento per 3-5 spettacoli o più con prezzi convenienti. Vicino al Campus Lettri Sciences Humaines e alla Facoltà di Lecce, il teatro è un luogo piacevole. Accanto si trova la Mediatica. Qui potete lavorare e rilassarvi con una scelta varia di documenti e di posti. Ci sono anche eventi che sono organizzati. Potete trovare tutte le informazioni sul sito web.